e amici adesso sono qui con un gruppo di giovanissimi tutti sotto i 25 anni i Sidewalk, buongiorno, benvenuti ragazzi adesso vi presentate uno per uno così poi riconoscono la voce quando parlate dite anche all'interno del gruppo qual è la vostra specifica sono Marco, Marco Turelli, sono il basso nel gruppo e vasto sono con questi ragazzi abbiamo questo gruppo, questo progetto indipendente che è un progetto bellissimo, adesso lo presentiamo bene io sono Luca Buscemi, nel gruppo suono la chitarra elettrica solista e io sono Davide De Francesco, invece sono il cantante e suono la chitarra acustica perfetto, manca solo Mattia Mattia Abadati, lo salutiamo ovviamente alla batteria, ciao Matti è lui il batterista, perfetto, poi la prossima volta portate anche lui allora voi siete una band che arriva, siete tutti bresciani? esatto, però adesso vivete a Milano esatto come mai questa decisione per la musica? sì, per inseguire un sogno almeno per quanto mi riguarda personalmente è stata una ricerca quindi andare a Milano è stato un mettersi alla prova quindi facendo arte di strada era un modo per comunque uscire dalla mia zona di comfort che era Brescia e quindi mettersi in gioco ecco un po' uno dei macro argomenti di stamattina arrivare a Milano e dar vita ai propri sogni ne abbiamo già parlato stavattina è un po' un sogno Milano per i ragazzi oggi più che un sogno più che altro vedi tanto vedi tanti ragazzi vedi tanta gente come te che sta inseguendo il suo sogno il proprio sogno e interfacciarti con queste persone ti dà tanta sicurezza soprattutto se c'è un un feeling tra queste persone se ci si sta bene tra di loro tra di noi si crea un legame bellissimo e nuove amicizie nuove comunità nuove esperienze incredibili allora voi avete questo modo di vivere la musica possibilmente in strada perché giustamente deve essere per tutti non la musica chi ce lo racconta? vai allora sì noi nasciamo come band diciamo da buskers in termine certo e ci siamo conosciuti proprio suonando per strada tanto che io stavo passeggiando e ho sentito Davide che suonava a sua chitarra e mi sono subito approcciato a lui per poter chiedergli suonare con lui il giorno dopo e poi da lì abbiamo iniziato a sentirci ed è nato poi questo progetto quindi la missione è una missione diciamo che parte dalla strada e che è ancora in strada e punta ad avere quel contatto lì che c'è con la gente che passa quando c'è quello scambio di di emozioni che è molto molto sincero che secondo me a livello di sincerità riesce a darti solo la strada è una cosa bellissima direi perché la gente è lì per caso cioè non è lì per te e quindi se tu riesci a conquistarla l'emozione che provi è qualcosa di indescrivibile e così anche il cantante il secondo cantante è arrivato in questo modo diciamo che è una fatica anche la strada cioè devi crearti un pubblico che non esiste quindi riuscire a fare breccia su degli esseri umani che sono semplicemente passanti attraverso quelle che magari sono le tue canzoni più personali è una conquista quindi ti rende consapevole del fatto che magari quello che stai facendo ha effettivamente un valore e poi impari a tenere il palco anche c'è un'energia doppia e funzionano questi spazi che ci sono anche in metropolitana attrezzati sono stati utili per i ragazzi che sono in strada? allora purtroppo a Milano c'è una situazione un po' un po' precaria per quanto riguarda questa questa proprio realtà esatto dei buskers perché comunque hanno messo delle limitazioni da un anno a questa parte che creano comunque degli attriti anche tra gli artisti nel senso che ci sono poche postazioni poche piazzole che effettivamente funzionano e quindi sono molto gettonate di conseguenza anche per noi è stato difficile riuscire ad approcciarsi al mondo milanese tanto che comunque abbiamo lavorato tanto a Bergamo a Brescia nelle città limitrofe comunque della nostra provincia però Milano comunque dà nel senso che soprattutto anche a livello di locali posti dove suonare molto underground è pieno è pieno però appunto la strada paradossalmente ha funzionato molto meglio funziona molto meglio a Brescia e nelle zone limitrofe qua Milano piano piano costruiamo anche qui però il 12 settembre è uscito Sugli Alberi un album come è arrivato questo album? quest'album è frutto di un anno di lavoro tra di noi Sugli Alberi è proprio la canzone che poi dà anche il nome all'album che è la canzone con cui ci siamo conosciuti è una canzone anche quella di lotta nonostante sia alla fine un blues d'amore per Madre Natura e quindi una ricerca del ritorno alle nostre origini è una canzone che comunque ci ha accumulati sin dall'inizio e che ha dato poi vita a quelle che sono anche le altre cinque tracce che fanno parte dell'album e voi siete molto forti sui contenuti adesso non ci siamo ancora arrivati adesso ci arriviamo facciamo così ascoltiamo Fuligine ok e poi parliamo dei vostri contenuti la presentiamo proprio con la musica la vostra la vostra bellezza grazie interiore sono con noi Sidewalk a mattino Lombardia vai Mariko Sidewalk ragazzi è meraviglioso questo pezzo Fuligine musicalmente pazzesco ma adesso entriamo proprio nel insomma l'avete ascoltato bene questo testo perché è importante e qui si parla chiaramente della Fuligine del che lasciano le bombe quando esplodono esatto e quindi chi comincia a raccontarci bene tutto il progetto che c'è dietro questo pezzo perché c'è molto 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 di più di una canzone Fuligine è una canzone che parla dell'ipotetica esperienza di un bambino di sei anni durante il genocidio che sta avvenendo a Gaza e a livello sentimentale questa canzone ogni volta che la suoniamo e la cantiamo ci dà tantissimo ci dà davvero tantissimo e il fatto di denunciare e raccontare queste cose ci porta dentro una responsabilità molto forte noi giornalmente soffriamo anche di questa cosa tanto ne abbiamo parlato oggi oggi di questa cosa che abbiamo in mano una responsabilità molto forte ma sono cose che vanno dette vanno raccontate non rimaniamo indietro parliamo di questo come parliamo della bellezza e la vita come parliamo anche della depressione sono argomenti che vanno trattati e in merito a Fuligine abbiamo anche aperto un crowdfunding vuoi approfondire il discorso? si si diamo diamo spazio al crowdfunding questo crowdfunding appunto sta cercando di raccogliere più proventi possibili da poter poi donare ad Oxfam Italia che comunque è una onlus che tratta la tematica di Gaza ormai da quasi 60 anni e comunque si immola per la causa da tanti anni noi riceviamo tutte le loro mail ogni tanto le abbiamo anche sentiti abbiamo fatto il primo bonifico tra l'altro neanche due settimane fa come si fa per donare dai tutti gli estremi abbiamo il link nel nostro canale social Instagram The Sidewalk abbiamo un link dove ci sono tutte le informazioni per la donazione e per il crowdfunding molto semplice cioè si entra c'è il link si segue il link ci sono tutte le informazioni perfetto avete qualcosa che volete segnalarci per esempio i vostri social mi viene in mente per seguirvi in maniera più approfondita su Instagram noi ci chiamiamo The Sidewalk poi ovviamente abbiamo adesso fatto uscire il nostro album quindi lo trovate su tutte le piattaforme streaming sugli alberi si chiama sugli alberi e quindi ci trovate anche su Spotify su Apple Music iTunes un po' ovunque TikTok sempre come The Sidewalk c'è un concerto però mi stavate dicendo per la presentazione dell'album dove e quando? il 22 questa domenica suoniamo a Brescia in un pub che si chiama Il Cantiere e porteremo l'album in una versione più acustica quindi lo faremo in versione completamente acustica quindi chitarra acustica e basso acustico è una situazione molto più più intima esattamente però insomma noi vogliamo presto sentirvi ovunque perché siete davvero molto bravi e volevamo anche ringraziare una donna incredibile e appunto là ce ne sono due anche di donne incredibili due donne incredibili Sofia Duccoli che ci sta seguendo ha preso a cuore il nostro progetto e l'amiamo l'amiamo alla follia e anche la mamma di Sosso e anche More che fa l'ufficio stampa perché insomma bisogna dare spazio a ragazzi talentuosi come voi assolutamente che cosa vi piacerebbe che succedesse adesso? La cosa più bella che potrebbe succedere è riuscire comunque attraverso la musica ad avere un'influenza sociale quindi portare determinati contenuti significa appunto come diceva Luca prendersi la responsabilità anche di portarli avanti e comunque di risvegliare in un certo senso gli animi dei giovani crediamo che comunque in questo momento storico la nostra generazione sia vittima di una serie infinita di cause e conseguenze di quello che è successo in questi ultimi anni tra cui anche il covid cioè siamo comunque vittima di una serie infinita di avversità e questa questa sensazione di aver bisogno di comunque farsi sentire è una cosa che credo che accomuni un po' tutta la nostra generazione sì ragazzi hanno sofferto tantissimo ce lo dicono tutti ancora è passato un po' di tempo ma ancora si soffre di questa cosa raccontarcelo ma soprattutto nella musica deve fuoriuscire quello che è il lato umano che sia bello brutto deve uscire tanto il lato umano che purtroppo sta andando un po' a variare oggi nell'industria musicale di oggi per via di una serie di cose vogliamo ritirare fuori questa cosa creare comunità creare far parlare tutti noi siamo il mezzo esatto siamo dei portali bello mi piace volevi aggiungere qualcosa sì l'obiettivo dal mio punto di vista è arrivare a un livello di coscienza collettivo ecco magari quello per cari di sensibilizzare no no deve essere così ragazzi sennò ci estinguiamo quindi è inutile girarci intorno cioè bisogna questa è la verità infatti su diadevo quello torniamo indietro per imparare a cambiare esatto allora ricordate il crowdfunding e poi dobbiamo salutarci chi ci racconta il crowdfunding appunto abbiamo aperto questo crowdfunding che supporterà la questione la la questione di Gaza e quindi se volete appunto anche voi fare la vostra piccola parte potete trovare tutti i nostri link sulle nostre pagine social Sidewalk The Sidewalk esatto grazie ragazzi siete meravigliosi io vi saluto passate un buon weekend domani e dopo con Sara c'è Amerigo in regia poi la farina in redazione il nostro direttore Luca Levati per il calcio sulla Steffi Il Longo torno lunedì